Benvenuti su meteogiuliacci.it. Domani giovedì 14 giugno, bel tempo su tutta l'Italia per l'espansione verso la nostra penisola di un'area di alta pressione. Migliora quindi anche il tempo sulle regioni settentrionali dopo l'aria instabile che ci interesserà nella giornata odierna. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale che ci mostra la nuvolosità di domani intorno alle ore 14. Vedete in Italia ancora sgombra da nubi a parte un po' di nuvolosità per lo più stratificata che interesserà un po' i mari di Ponente e la Sardegna. Vediamo allora il tempo per la giornata di domani. Al mattino bel tempo su tutta l'Italia. Al pomeriggio un po' di nubi soltanto sulle regioni alpine con qualche rovescio, qualche temporale soprattutto sulle Alpi di Nord-Est. Per quanto riguardo alle temperature queste saranno in lieve aumento, saranno per lo più comprese tra 24 e 28 gradi su tutta l'Italia con qualche punta intorno a 31-32 gradi ancora una volta sul Salento e sul Siracusano. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolta, ancora un buongiorno.